e ben a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovissimo video di super mario maker 2 allora amici stiamo continuando bene con la modalità storia a me sta continuando a piacere tantissimo anche a voi vedo quindi non lo stiamo continuando veramente bene con gli episodi e credo dalla fine questo let's play lo finiremo al 100% ora andiamo a fare questo bellissimo impiego mi stile primo mario bros carino allora è curioso perché è curioso questo livello già da come vedo che è strutturato una madonna un grande fungetto ok saliamo qua grande cosigenio perfetto ok vedi qua vita non so cos'era qualcosa ma va bene così monettina ancora monetta chiudete amici oh mio dio che roba è non lo so ma va bene così finito il livello alla cavolo di cane perché logicamente non avevo capito che si poteva passare anche da sopra beh perfetto ho fatto anche questo livello mamma mia mamma mia ma thank you un cazzo ah ti nani ah ti nani mi dico raga però quando hanno annunciato questo mario maker 2 questo mario maker 2 ehm io ce l'ho detto cavolo appena ce lo devo portare andiamo a facciamo un altro incarico va in stile mario world oh finalmente ok mi si è bugato il coso che bello mi si è bugato il coso ok fammi giocare no boh vabbè raga si era tolto il livello vabbè lasciamo perdere raga che la mia nintendo in questi mesi sta facendo dei flop assurdi ma lasciamo perdere va facciamoci il livello tranquillamente quindi la pubblicità che avete messo prima ma è stranamente per una cosa di virus che ha all'interno in questi mesi eeeh ok giuro che me l'aspettavo peggio ok dai così ok ah ok noma perché E' bene così E finiamo questo livello alla grande Qui siamo a 5 minuti quindi dai Mi sa raga che oggi vi faccio un po' L'episodio è un po' lungo Io so che ci sono Ok non ha più incarichi per noi Quindi direi che possiamo tornare Una cosa è una vecchia vita Uh che roba c'è qua Eh diciamo che c'è un piccolo segreto Guardate una piccola ranocchietta Ok anche lì si sta dando un incarico da fare Quindi andiamo subito a farlo In stile è sempre il primo Mario Bros Quindi dai No raga i little mare No vi prego Già gli odio di mio Ho visto se si mettono anche le ombre qua Non ci esco più No grazie Siamo morì Siamo chiusi subito Possibilmente Dico possibilmente No ma ma Ok 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 se non qua Ok Checkpoint Mamma mia Allora Almeno se muoio riparto da lì Eh vabbè La stima è strana Ok 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 Mamma mia Noi raga Ditemi che diciamo A concluderlo Almeno questo Perfetto Abbiamo concluso anche questo livello Mamma mia Mamma mia Bene così Ok Ok Ho capito Che senso ha Se non si è venuto a ballare Ok 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 Raga Proprio si sta formando un po' tutto Via il castello Ok Ho un altro incarico da darci Quindi direi di andare a farlo Proprio su qua In stile New super mario bros 2 Oppure boh forse In stile New super mario bros 2 Boh raga Non mi ricordo lo stile di questo No Affanla Ok Allora Ok Ok Possiamo per di qua Ok Amici Scusate se non sto parlando molto Però sono concentrato Ok Spacchiamo tutto qua Cazzo Allora Ok Ok Vai Vai Dai Dai Raga Che cosa Che Finiamo Non è giusto Ma dai Ma non è giusto Ok Ok Direi che fare questo episodio Può essere anche tutto Ci vediamo al prossimo video Ciao Ciao